Ci sono imprenditori che in questo momento di profonda crisi si possono definire dei veri capitani coraggiosi. Nonostante il momento difficile, il vostro gruppo, la concessionaria Reggini, in questi giorni ha festeggiato il settantesimo anno di attività. Filippo Reggini, amministratore della concessionaria Reggini di San Marino, come state organizzando questo periodo e come avete pensato di sviluppare l'attesa fase 2, quella in cui il governo darà la possibilità di aprire nuovamente le attività commerciali? Noi essendo San Marino siamo già nel pieno della fase 2 perché è uscito proprio i giorni scorsi un decreto che prevede l'apertura delle officine su appuntamento, per cui già ci siamo organizzati per poter ricevere i clienti e tenere il personale completamente al sicuro adottando tutti quei presidi che il governo ci ha imposti. Abbiamo lavorato con il nostro responsabile della sicurezza sul lavoro per adattare la concessionaria a questa nuova esigenza del Covid-19. Vuole lanciare un messaggio positivo agli imprenditori sanmarinesi e riminesi? Ma certamente il mondo non si ferma, per cui bisogna andare avanti. Dovremo convivere per un periodo con questa situazione, per cui quello che posso dire è che certamente dobbiamo lavorare in primis in sicurezza, quindi dovremo adottare tutti i presidi necessari. Poi anche alcune logiche andranno modificate anche dal punto di vista commerciale soprattutto perché dovremo sempre di più abituarci a lavorare online con videochiamate, videoconferenze, quindi questo sarà il nostro futuro nei prossimi mesi. Non abbatterci ma lavorare per andare avanti e convivere con questo virus.